In quella che sembra essere la fase decisiva per definire gli assetti in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera ad Albadriatica arriva l'intervento di Dino Pepe, assessore regionale ed attualmente commissario per il congresso del circolo PD della città al Benze. Parte da ciò che accade nel centrodestra il ragionamento di Pepe. È necessario rilevare come ad Albadriatica, giunti all'epilogo dell'esperienza amministrativa Piccioni, siano in corso vistosi smottamenti in tutta l'area del centrodestra, seguiti dal tentativo di accollare alla sola persona del sindaco la responsabilità di questa gestione amministrativa. Rimane netto il giudizio severo dei cittadini nei confronti della politica del centrodestra al Benze, sottolinea Pepe, rimasta assolutamente distante dalle aspettative, dalle esigenze e dalle problematiche sollevate dai cittadini. Non sembra ammirevole neppure la scelta di molti autorevoli referenti dell'amministrazione uscente, che dopo aver cooperato per rinalzare al massimo soglio cittadino l'esperienza di movimento per Alba, oggi tentano di dissociarsene, individuando nel sindaco un utile capro espiatorio. Da questa premessa il discorso si sposta in Casa Dem. Alla luce dei fatti il cammino di riunificazione intrapreso col nuovo corso del Partito Democratico, continua Pepe, appare più che mai giusto e doveroso. Il lavoro di confronto in atto nel PD per la ricostituzione dell'area politica del centrosinistra al Benze ha visto il ritorno di tante personalità decisi a dare una prospettiva seria al futuro della città, accettando il metodo del confronto leale sui temi di maggior rilievo. Tutti i tesserati del PD, anche se portatori di differenti sensibilità, rappresentano una preziosa risorsa del partito, perché il metodo del confronto permette di avviare proficui percorsi di convergenza e di sintesi strumenti diversi, non ultimo quello delle primarie. Si tratta di avviare una fase difficile e seria, conclude Pepe, che deve puntare sull'inclusione di tutte le forze e non fondarsi sull'esclusione e sull'attacco al PD, che deve rappresentare al contrario il perno di questo tavolo di concertazione. Il PD di Alba Adriatica resta stabilmente impegnato in un progetto unitario per ridare una solida alternativa alla politica della città, favorendo la competenza, il rinnovamento, la credibilità e tutte le condizioni necessarie ad una prospettiva di rilancio necessaria dopo l'attuale esperienza politica del centro-destra.